Sulla regione in questi giorni affluiscono correnti settentrionali abbastanza secche in quota. Per l'altro nella giornata di sabato avremo cielo sereno o poco nuvoloso, possibili ancora delle nubi basse nella zona di Tarvisio dovute ancora alle correnti orientali nei bassi strati, soffiera vento da nord-est moderato, tratti sostenuto in quota e ancora bora sostenuta al mattino sulla costa. Nel corso del pomeriggio di sabato il vento sarà in attenuazione. Temperature simili ai valori degli ultimi giorni con lo zero termico intorno ai 400-500 metri di quota e massime su pienune costa intorno ai 6-7 gradi. Domenica una giornata stabile, il mattino cielo poco nuvoloso, non ci sarà più vento, in giornata aumento della nuvolosità a partire dalle zone occidentali e le temperature saranno abbastanza basse. Di primo mattino in pianura valori intorno ai meno 4-5, ben sotto zero su tutta la zona montana, durante il giorno intorno ai 4-5 gradi i valori delle massime. Nella notte tra domenica e lunedì mattina è probabile il passaggio di un debole fronte che potrebbe portare delle nevicate anche a bassa quota, la previsione è ancora piuttosto incerta e andrà seguita l'evoluzione. In giornata di lunedì il tempo poi tende a migliorare e martedì avremo nuovamente cielo in prevalenza sereno e nuovamente correnti dal nord-est un po' di bora sulla costa.